Buonasera, sono Roberto Nicolini, sono il Technical Marketing Manager di Motorpower Company. Oggi sono qui per presentarvi un'applicazione che abbiamo svolto nel settore del material handling in collaborazione con il nostro cliente Finmeccanica che oggi è rappresentato da qui presente ingegnere Dalcanto. Brevemente Motorpower Company è una realtà con sede principale a Reggio Emilia, siamo circa 200 addetti con una filiale anche in Cina, nell'area di Shanghai, che è una filiale produttiva e una filiale in Germania. Siamo divisi e organizzati in tre business unit, la prima business unit Motors è la business unit che si occupa della progettazione e produzione di servomotori di diverse tipologie e diverse tecnologie fino ad arrivare al moto diretto sia lineare che rotativo, la business unit Motion Control che è la business unit che si occupa di tutta la parte elettronica, quindi di interfaccia e sistemi di controllo di interfaccia con i motori, e la business unit Megatronic che è la parte di azienda che si occupa della realizzazione di applicazioni specifiche utilizzando principalmente tecnologie Direct Drive. L'applicazione che vediamo oggi è stata sviluppata da quest'ultima business unit. Dicevamo siamo nel material handling, nello specifico nell'area sorting, quindi sistemi di smistamento. Gli utilizzatori specifici di questi tipi di attrezzature, di questi tipi di impianti, sono i corrieri espressi tipo DHL, UPS, sono impianti di smistamento bagagli, quindi aeroporti, impianti per servizi postali, quindi lettere e pacchi, e impianti per grande distribuzione, food no food, tanto per intenderci tipo e-commerce come Amazon, Zara oppure aziende tipo Walmart. Cosa deve consentire il motion control in questo tipo di settore? Sicuramente una affidabilità elevatissima, il più elevato che si può, nel senso che se sono impianti che lavorano H24, 7 giorni su 7. Di conseguenza per ottenere un'alta affidabilità l'eliminazione, comunque una forte riduzione di quella che è la manutenzione dell'impianto, una rapida messa in servizio, perché sono impianti, adesso vedremo un video su impianti abbastanza complessi, manutenzione in tempi molto ridotti, l'efficienza basata sul consumo energetico e soprattutto anche un concetto di modularità degli impianti per essere proprio flessibili anche nel discorso dell'installazione di questi ultimi impianti. Cosa non ultima è anche il controllato livello di rumorosità. Per rispondere a queste esigenze, Motor Power Company è partita dal concetto del motore lineare, quindi un motore che normalmente viene applicato in macchine high-end, quindi con accelerazioni molto elevate e prestazioni notevoli. Abbiamo prelevato la core technology di questo motore lineare, quindi la parte della bobina elettrica e la traccia magnetica e le abbiamo applicato in maniera originale, quindi capovolgendo l'uso tradizionale del motore e andando a posizionare la bobina sulla parte fissa della macchina e la traccia magnetica sulla parte mobile della macchina. In questo modo utilizziamo il motore lineare per un sistema di propulsione o di trazione. Noi amiamo dire che facciamo motori lineari anche di un chilometro di lunghezza, perché vedrete che questo tipo di macchinari, questi anelli, questi loop di smistamento hanno lunghezze di questo tipo. Questo sistema completo viene denominato Motor Power Company, lo chiama LSM, che è costituito principalmente quindi dal motore lineare, quindi bobine montate ripeto sulla parte fissa statica della macchina, dalla traccia magnetica che è montata a bordo della parte mobile, quindi del carrello in movimento e relativi sistemi di controllo, quindi direzionamento e controllo macchina. Il principio di funzionamento non vi vorrei annoiare troppo su questa parte un po' di tecnica, però principalmente si vanno ad alimentare le tre bobine che vedete rappresentate in maniera sequenziale e in questo modo si va praticamente a generare il moto necessario per movimentare il carrello che è posto sopra la bobina. In questo modo cosa succede? Che noi andiamo a generare una forza lineare al carrello, imprimiamo una forza lineare al carrello senza toccarlo, quindi è un sistema di movimentazione lineare senza nessun organo di trasmissione meccanico. Il carrello è solo sostenuto da due ruote in gomma chiaramente per poter scorrere, ma non c'è nessun organo di trasmissione meccanico. I risultati che otteniamo grazie a questa tecnologia sono, noi diciamo non maintenance, quindi non abbiamo organi di trasmissione meccanici, di conseguenza per movimentare l'anello, per movimentare il loop non ci sono manutenzioni. Di conseguenza otteniamo un risparmio energetico notevole, che poi vedremo anche meglio con l'ingegnere Delcanto. Un discorso di velocità e di precisione, perché comunque il sistema LSM fornisce anche un encoder macchina, quindi per determinare la posizione dei singoli carrelli e di conseguenza regolare la velocità. E un'altra serie di vantaggi che vedete di seguito. Vorrei mostrarvi ora un video di come si presenta realmente l'applicazione. Quello che vedete rappresentato, la parte esterna in rotazione è praticamente l'anello di smistamento, quindi la macchina. E quello che vedete in giallo, forse un po' in piccolo, sono i bagagli. In questo caso stiamo rappresentando, stiamo simulando un sistema di smistamento aeroportuale. Il bagaglio arriva, viene mandato a destinazione sulla macchina di smistamento e la macchina di smistamento praticamente prende in carico il bagaglio e lo va a depositare nell'uscita corretta, nell'uscivolo corretto che poi a sua volta verrà poi imbarcato. Quello che vediamo qua è un impianto esistente, un impianto demo realizzato presso la sede firmeccanica a Genova. Questo è un impianto che ha uno scopo didattico e dimostrativo per i clienti. Quello che vediamo praticamente è la simulazione di quello che avviene quando andate all'aeroporto. Non abbiamo filmato degli aeroporti perché chiaramente non è possibile poterli effettuare, però questa è l'operazione di quando effettuiamo il check-in, quindi quando imbarchiamo il bagaglio, il bagaglio chiaramente viene identificato con un sistema codice barre, questo è un impianto di film meccanica, quindi è in grado di fornire la soluzione completa di gestione del bagaglio. In questo caso la rappresentazione diciamo che forse è abbastanza semplice perché vedete che i bagagli sono tutti simili e uguali, in realtà non è così, perché quando imbarco all'aeroporto i bagagli sono delle forme più disparate. Film meccanica fornisce anche le soluzioni per quanto riguarda il sistema di sicurezza dei bagagli, il controllo dei bagagli. Qui il bagaglio monta su quello che è il sistema di smistamento, quindi viene mandato su questi carrelli, che questi carrelli sono quelli movimentati dal motore lineare che vedevamo prima, quindi dal sistema LSM. Questo è il quadro di comando perché chiaramente nel momento in cui mando ogni singolo bagaglio o su ogni singolo carrello, la macchina deve riconoscere il bagaglio a quale carrello viene assegnato e di conseguenza mandarlo nell'uscita corretta. Questo avviene anche per i pacchi, questo è il suo identico concetto. Adesso vedremo un po' più nel dettaglio come è montata la nostra tecnologia, quindi al di sotto di ogni singolo carrello c'è una traccia, una base magnetica e a terra abbiamo detto che c'è la parte fissa che è una bobina elettrica. Il sistema LSM è un sistema modulare, quindi un gruppo come vedete qui rappresentato da tre bobine copre e fa bisogno di circa 30-40 carrelli, quindi un carrello mediamente ha una lunghezza di un metro e una macchina può essere parecchie centinaia di metri a seconda delle dimensioni dell'impianto. Quindi il sistema è modulare in funzione della lunghezza dell'impianto. quindi questo è quello che vediamo qua rappresentato, lo scopo di fornitura di Motorpower Company. Qui vediamo il concetto di modulareità del sistema LSM. Lo stesso concetto può essere applicato sia a dei carrelli come abbiamo visto nel filmato, quindi con il tappeto cosiddetti cross belt, che invece è un sistema di tilting dove il pacco e il bagaglio viene scaricato facendo proprio un movimento basculante. In questo ultimo caso il sistema di tilting prevede l'utilizzo di anche lì una soluzione originale di Motorpower Company che è un motore lineare e curvo. Passerei la parola all'ingegnere del canto che ci fa vedere qualche referenza un po' più nello specifico. fin meccanica che da inizio mese la novità è che ci chiameremo Leonardo si occupa di tantissime cose. La struttura di cui io faccio parte è situata a Genova e fa parte della divisione cosiddetta civile, in pratica security e information system, dentro cui c'è una business unit che si occupa di automazione. In passato noi ci occupavamo quasi esclusivamente di automazione di oggetti piccoli, oggetti postali, letteri, tifletti, bustoni. Dalla 2007 per il calo del mercato della posta tradizionale invece l'estensione, la crescita del mercato dei pacchi e dei pacchetti dovuto principalmente all'e-commerce ma anche all'esternalizzazione dei servizi logistici di molte aziende, abbiamo iniziato a produrre internamente anche le macchine per trattare gli oggetti grandi. In pochi anni abbiamo fornito una serie di sistemi anche complessi in Italia e all'estero. Nel caso del bag e generi, quindi sistemi aeroportuali, abbiamo automatizzato sistemi di Roma-Fiumicino, in passato anche di Milano-Malpensa e attualmente stiamo sviluppando sistemi in Svizzera, in Francia e anche in Pakistan. Per quanto riguarda invece il mercato dei pacchi, oltre al mercato postale tradizionale, in particolare ci rivolgiamo ai grandi corrieri internazionali e per DHL abbiamo automatizzato il più grosso hub del Mediterraneo, della parte del sud Europa, quello di Milano, oltre a quello di Bologna. Ad esempio abbiamo una grossa applicazione in corso in Belgio, un centro logistico delle poste belghe, stiamo sviluppando sistemi in Russia, ma in particolare abbiamo acquisito l'anno scorso l'automazione del più grande hub, se la batte con quello tedesco di DHL, quello dell'Eastern Midland che è situato vicino a Nottingham e che in pratica è un sistema immenso. Pensate che durante la notte, perché lì tutto il traffico, tutto lo smistamento avviene dalla sera alla mattina, vengono smistati circa 70.000 oggetti, dai pacchetti ai pacchi, quindi passiamo da oggetti di qualche eto fino a 30-40 kg. In questo hub in pratica ogni sera traccano 350 camio e essendo un hub aeroportuale ci sono circa 80 voli in arrivo e in partenza da tutte le parti del mondo. È un impianto che occupa circa 45.000 metri quadrati, quindi fate conto 6-7 campi di calcio e ci saranno dentro a fine installazione 6 smistatrici di cui 2 di addirittura 2.800 metri, quindi cose enormi. Quindi parliamo di circa 3.000 carrelli, ognuno col suo motore lineare, col suo motorullo e parliamo per un sistema di 2 chilometri di circa 50-60 motori lineari. E chilometri e chilometri poi di nastri per collegare i gate con le smistatrici. Controlli radiogene, quindi una serie di macchine radiogene perché tutto il traffico deve essere controllato per problemi di sicurezza, quindi è un impianto enorme e anche per noi una sfida notevole che abbiamo potuto affrontare insieme a MotorPave perché la complessità è enorme, i numeri anche delle forniture sono enormi rispetto alle nostre precedenti esperienze e i tempi di consegna sono molto stretti. Noi abbiamo iniziato a settembre 2015, quest'anno abbiamo già iniziato le prime consegne, i vari sistemi saranno consegnati a distanza di alcuni mesi uno dall'altro nel giro di un anno e mezzo, quindi è una sfida veramente importante per noi. Altri numeri, 6 chilometri di nastri, 800 uscite per gli oggetti piccoli che sono messi dentro a dei contenitori che poi a loro volta vengono messi dentro ad altre macchine. Il concetto è quello del cross-docking, cioè tutti gli oggetti vengono prelevati dai mezzi in arrivo, vengono trattati automaticamente, smistati e devono ritornare sui mezzi in partenza, io sempre dei nastri telescopici. Ecco, due parole su qual è il valore aggiunto della collaborazione tra noi e Motor Power Company. Beh, alcuni li ha già detti Roberto, io mi soffermerò su alcuni altri. Innanzitutto, un'ingegnerizzazione del progetto sia dalle prime fasi. Noi avevamo l'esigenza di fare una macchina che fosse superiore a quella, essendo gli ultimi arrivati, superiore a quella dei nostri concorrenti. Quindi volevamo una macchina che consumasse poco, che fosse efficace, che non richiedesse manutenzione. L'utilizzo della tecnologia del moto diretto ci ha consentito proprio di ottenere tutti questi vantaggi. Non da ultimo, una grossa attenzione su quello che è il risparmio energetico e il risparmio di manutenzione. Come si è detto, il motore lineare ci ha consentito di risparmiare in assoluto energia, ma un valore aggiunto è stato quello di poter inserire sui nostri sistemi la possibilità di variare la velocità in funzione delle esigenze di servizio. In un aeroporto non ho sempre lo stesso traffico, ho delle ore di punta e delle ore dove arrivano e partono meno aerei. Questo grafico, la curva rossa, rappresenta più o meno quali sono gli andamenti di un aeroporto. Questo è più o meno l'andamento nel tempo, nelle ore della giornata, dell'aeroporto di Fiumicino. Noi abbiamo visto che se noi possiamo tarare i nostri sistemi affinché lavori in esattamente o leggermente di più come potenziale i bagagli di quella fascia oraria, noi possiamo ottenere un sistema che alla fine fa meno chilometri nella giornata rispetto a un sistema che va a velocità fissa e che dovrei sempre tarare sulla velocità massima. La tecnologia precedente non permetteva questo. Con l'utilizzo dei motori lineari di controlli appropriati siamo riusciti a inserire questa importante caratteristica nei nostri sistemi e in pratica la parte azzura dello schema, l'aria azzurra rispetto all'aria totale rappresenta la quantità di energia che noi riusciamo a risparmiare, ma rappresenta anche i chilometri in meno che facciamo, quindi in proporzione rappresenta quanto si allunga la vita del sistema, ma anche quanta manutenzione in meno che facciamo, perché queste macchine sono come l'automobile, devo fare un tagliando ogni totale chilometri, quindi se nel suo ciclo di vita mensile faccio meno chilometri io rimando i tagliandi a una fase successiva. Quindi questa collaborazione ci ha permesso di ottenere dei risultati che per noi sono veramente importanti. Io chiuderei qui, grazie a tutti dell'attenzione. Grazie. 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 Grazie.